ciao amici sono lox bentornati sui fatti di opinioni di lox il canale per i veri malati di sport 25 aprile molto intenso oggi un paio di video su avvenimenti di ieri più il bday tre partite della giornata di serie b cominciamo parlando di pallacanestro sfida salvezza varese contro forti tutto prima di entrare nel vivo ricordatevi se vi piace il video grazie per un canale e grazie per il sostegno che date a questo mio progetto come detto partita varese contro forti tutto sfida salvezza in paglio punti fondamentali ha vinto varese 103 92 certo non la sfida salvezza che mi sarei aspettato per caratteristica delle due formazioni aspettarsi una gara ai 60 punti tipo eurolega ovviamente era impossibile però un minimo di intensità difensiva me la sarei aspettata invece al contrario è stata una partita birriglie totalmente sciolte la transizione difensiva della fortitudo è veramente imbarazzante i punti in contropiede di varese miriade partita di grandissime percentuali al tiro soprattutto da parte di varese in grande equilibrio finita in parità 45 pari nel primo tempo alla fine all'intervallo lungo tutte le squadre hanno sempre superato almeno i 20 punti in ogni singolo periodo in ogni singolo quarto di gioco gara che si è decisa tra la fine del terzo e l'inizio del quarto quarto quando varese ha messo l'accelerazione fino a quel momento il massimo vantaggio era stato di cinque punti da parte di entrambe le formazioni lì invece varese riuscita a mettere con un paio di triple a cavallo tra la fine del terzo e l'inizio del quarto periodo ha messo proprio la marcia in più ed è andata ad allungare in un quarto periodo dove poi le percentuali di varese si sono mantenute clamorose bologna invece calata e alla fine ha perso una partita molto importante varese salva varese che si è autocomplicata la vita ci sono sapete con l'allontanamento del coach rojakers che aveva al contrario salvato la stagione ora questo nuovo assetto è una squadra veloce che tira nei primissimi secondi dell'azione tira la tre una merida di volte stavolta anche con grandi percentuali squadra sicuramente piacevole da vedere però ripeto la partita se è stata godibile da un punto di vista puramente estetico da un punto di vista di significato mi è stata a mio avviso è stata una delusione mi aspettavo una battaglia una qualcosa di questi punti in paglio di un pochino più insomma affascinanti dal punto di vista proprio della combattività ci sono state note testo canestro a rimbalzo tuffi ok ma niente di così forte come mi sarei aspettato sette giocatori in doppia cifra per varese 20 dai 26 di kin agli undici di vol de terza per quanto riguarda le scelte di tiro varese ha tirato 37 volte di due 32 volte da tre e le percentuali attenzione ha tirato con 60 per cento da due punti con il 56 per cento da tre tirando 18 su 32 perdendo solo cinque palloni partita veramente eccezionale da un punto di vista offensivo come detto per chi in 26 punti 10 su 18 al tiro 9 assist 30 di valutazione prestazione assolutamente straordinaria ha giocato bene l'oggetto del contenere reyes 15 punti 6 su 8 8 rimbalzi un ottimo più 15 in plus minus e 26 di valutazione reyes che era stato al centro proprio di tante polemiche nella gestione con il coach precedente di varese per quanto riguarda poi i dati statistici da notare caruso che in 13 minuti ha prodotto zero punti ma ha avuto un clamoroso più 15 di plus minus bologna come detto zero difesa difesa a vista sostanzialmente facilmente battuti in uno contro uno sostanzialmente sempre imbucati da tre punti con grande facilità 18 canesti da tre subiti una transizione di rientro veramente troppo debole con queste caratteristiche credo sia troppo difficile anche solo provare a salvarsi mi sono piaciuti i giocatori europei della fortitudo su tutti Aradori Benzing e Haran Populos che ha giocato molto bene 28 punti 11 su 14 soprattutto un 6 su 6 da tre 34 di valutazione più uno con lui in campo quindi una gran partita per il greco invece non mi sono piaciuti soprattutto i due giocatori che credo siano mancati di più la fortitudo Frazier da una parte Grosella anche che ha dato troppo poco sotto canestro e poi Duran Duran due punti meno 18 con lui in campo in una partita di questo genere questo corri e tira dove tutti devono produrre è stato veramente una prestazione troppo troppo deludente e troppo leggera da parte dei giocatori americani della fortitudo situazione ora ancora più complicata naturalmente Varese invece ha portato a casa questa salvezza complessivamente meritata nel corso del campionato ed è una squadra che vediamo se riuscirà ancora ad agguantare in questa grandissima confusione che c'è nel finale di stagione magari anche un posto nei playoff che giocando in questo modo potrebbe anche essere una squadra spettacolare da vedere abbiamo avuto 31 falli la partita è stata facile sicuramente vista la intensità non particolarmente forte presente però sono stati bravi anche gli arbitri a tenerla a non andare ad ammorbarla con eccessivi interventi o con fischi inutili per cui da questo punto di vista un buon lavoro della Terna avevamo il debutto dell'Ucraino Rizik che da terzo arbitro è passato a essere secondo Borgioni buongiorni gli altri due il 7 per tutti il voto spero che ora che Rizik abbia debuttato possa finire un po la piageria di questi giorni soprattutto della stampa la gazzetta insomma in generale Rizik non è il messia è un arbitro di esperienza di Eurolega sicuramente un buon arbitro è il 37esimo arbitro a disposizione dei disegnatori sono otto partite a settimana in italia non si usano le doppiette ci sono 13 arbitri che riposano ogni settimana è questa la situazione non è arrivato il miglior arbitro del mondo quindi torniamo nell'alveo normale un bel lavoro e sono contento che abbiano comunque arbitrato bene fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita l'appuntamento con la palacanestro in settimana quando torneremo a parlare delle coppe europee grazie a tutti un bacio e ciao da Lox